Ancora una volta il Consiglio Direttivo dell'Associazione Real Mestranza ha affidato la guida di una delle più antiche realtà della storia della città e della sua settimana santa a Giuseppe Tuminelli. Comincia quindi il secondo mandato per il presidente della categoria dei Carpentieri, che ha rivestito la carica di capitano della Real Mestranza nel 2017. Nei locali dell'ex GIL, infatti, lo scorso 25 maggio si sono svolte le elezioni in presenza anche del gran cerimoniere della Real Mestranza Gianni Taibbi. Al termine delle consultazioni il Consiglio Direttivo ha dunque votato non soltanto il presidente dell'Associazione Real Mestranza per il triennio 2022-2024, ma anche le altre cariche. E cioè i vicepresidenti Angelo Palermo della categoria degli Idraulici Stagnini e Antonio Amico della categoria Panificatori, Pasticceri e Cuochi, il segretario Gianluca Taibbi della categoria Muratori, il tesoriere Aldo Buscemi della categoria Barbieri Acconciatori e infine i consiglieri Roberto Nicosia appartenente alla categoria Falegnami e Debanisti, Salvatore Di Mauro categoria Fabri, Gaetano Villanucci categoria Pittori e Decoratori, Filippo Aleo categoria Calzolai, Pellettieri e Tappezzieri e Luigi Fiocco della categoria Marmisti.